Le interviste di NBC Rete Regione Alto Adige, set sempre più scelto dai registi italiani ed internazionali. Questa volta a Bolzano e Merano è arrivata l'intera flotta della casa di produzione cinematografica svizzera Aventura Film per un lungometraggio diretto dal noto regista elvetico Eric Bernasconi dal titolo Fuori Mira. A raccontare la trama ai nostri microfoni, lo stesso regista Eric Bernasconi. Prima di tutto è ambientato in Svizzera proprio perché avevamo bisogno di ambientarlo da qualche parte. È una giornata d'estate in cui un tassista di origine togolese viene colpito da uno sparo. Dopo una notte in cui ha lavorato con il suo taxi, è tornato a casa, ha fatto l'amore con la propria ragazza in un quartiere che sembra di liaco, in cui tutti si vogliono bene, in cui l'integrazione sembra perfetta. Questo sparo che non si sa da dove arriva lo ferisce di striscio e in 24 ore la gente comincia a chiedersi ovviamente chi ha sparato. La polizia indaga, i privati si fanno domande e quella patina, quella facciata in cui tutto sembrava funzionare, si sgretola piano piano e il quartiere va a rotoli. È una giornata evidenziando il fatto che tutti gli equilibri che sembravano essere perfetti erano equilibri fragili. Un film interamente ambientato in Ticino, nella Svizzera e italiana, ma quindi qual è il motivo che ha spinto la produzione a realizzare interamente le riprese in Alto Adige? Perché siamo venuti qui? Il motivo trascinante è un motivo economico perché i fondi della BLS permettono di venire a girare qui con un incentivo economico, poi dopo ovviamente ci costringono giustamente a spendere un 150-170% dei soldi che arrivano, quindi insomma questo fondo ci permette di chiudere il budget e questa è stata la prima spinta. La seconda spinta artistica è stata quella che io volendo descrivere la giornata di un quartiere universale non volevo che la storia venisse confusa con la storia di un quartiere ben preciso della Svizzera italiana e riconoscibile, quindi questo mi permette di spaesare la vicenda nella speranza di renderla appunto universale quindi che possa riguardare qualsiasi spettatore che vede questa storia. E proprio come ha sottolineato Eric Bernasconi, dietro la realizzazione del film c'è anche l'importante contributo della BLS, Business Location Sutirol, che ha finanziato la produzione con 350 mila euro, attinto dal fondo altoatesino alle produzioni cinematografiche. Buon appetito! Buon appetito!